Il prossimo pezzo, noi veniamo da Osta che è una piccola cittadina di provincia, molto bigotta, molto perbenista e come tutti i gruppi che si rispettano noi tendiamo sempre a parlare molto bene dei posti dove andiamo a suonare e sempre molto male del posto da cui proveniamo per cui, più o meno, una decina di anni fa abbiamo fatto questo pezzo che parla naturalmente male della nostra città dove ci siamo sempre sentiti molto oppressi dove non siamo mai riusciti a esprimersi al meglio, dove tutto quanto è preconfezionato dove continua a non esserci nessun tipo di cultura alternativa e nessun tipo di cultura interessante Il cuore tra la gente dimentica il sogno, il abbraccio e il sorire senza capire perché non credo il cuore tra la gente dimentica il sogno, il sogno, il sogno e il sogno e il sogno è un dati, non credo e non credo il sogno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.